120. L'azione parallela suscita tumulti Quando Walter arrivò in centro, c'era qualcosa nell'aria. La gente non appariva diversa dal solito. Veicoli e trenvie circolavano come sempre. Forse qua e là si vedeva un movimento inconsueto, ma si scioglieva prima che lo si potesse bene osservare. Eppure ognuno pareva provvisto di un piccolo segno distintivo dalla punta rivolta in una data direzione e appena Walter ebbe fatto qualche passo, sentì quel segno anche sopra di sé. Seguì la corrente e gli pareva che l'impiegato della sovraintendenza artistica e anche il pittore e musicista, persino al tormentato marito di Clarisse, fossero sostituiti da una persona che non si trovava in nessuna di quelle definite condizioni. Anche le strade con la loro animazione e le case sovraccariche e pompose si trovavano come lui in uno stato preparatorio, come egli lo definì fra sé, perché gli dava all'incirca l'impressione di un cristallo e cui facce cominciano a sciogliersi e a ritornare in uno stato precedente. Conservatore qual era, quando si trattava di rinagare le innovazioni dentro di sé, era poi pronto a condannare il presente. E quella dissoluzione dell'ordine che fiutava lo mise di buon umore. La gente che incontrava numerosa gli ricordava il suo sogno e si davano l'impressione di frettolosi e requietezza. E una solidarietà che gli parve molto più spontanea di quella solita, creata dalla ragione, dalla morale e dalla prudenza, faceva di loro una comunità libera e sciolta. Pensò a un gran mazzo di fiori, da cui si è tolto il filo che lo lega, così che s'apre senza però disfarsi. E pensò a un corpo liberato dagli abiti, così che viene fuori la nudità sorridente, che non ha parole né sa che farsene. Ma quando, camminando più in fretta, si imbattene un folto gruppo di poliziotti pronti all'occorrenza, nemmeno quello gli diede fastidio. Anzi, la vista lo entusiasmò come un accampamento che aspetta l'allarme e con infinite mostrine rosse, i cavalieri appiedati e i movimenti di truppe che vanno e vengono, eccita bellicosamente i sensi. Dietro quello sbarramento, benché non fosse ancora chiuso, Walter notò subito il quadro più oscuro delle strade. Non si vedevano quasi donne per via e anche le uniformi multicolori di ufficiali a passeggio, che di solito animavano quei palazzi, erano state ingoiate dalla dominante perplessità. Come lui, però, molta gente andava verso il centro e l'impressione prodotta dal loro andare era adesso diversa dal solito. Faceva pensare alla pula e ai residui che una forte raffica di vento porta con sé. Presto vide formarsi i primi gruppi, che non parevano tenuti insieme soltanto dalla curiosità, ma anche dall'indecisione se seguire l'insolito stimolo o tornare indietro. Alle sue domande, Walter ottenne risposte diverse. Gli uni rispondevano che si trattava di una grande manifestazione di fedeltà allo Stato. Gli altri credevano di sapere che la dimostrazione fosse contro certi patrioti troppo attivi e altrettanto divise. Erano le opinioni nel quesito se l'agitazione generale fosse un'agitazione del popolo tedesco contro la mollezza del governo che favoriva le pretese slave, e questa era l'opinione dei più, o fosse invece solidarietà col governo e invitasse tutti i cacanesi ben pensanti a dichiararsi contro le continue sommosse. Erano tutti lì per caso, come lui, e Walter non apprese niente che non avesse da sentito raccontare all'ufficio. Ma un umore cerliero, che non poteva padroneggiare, lo spingeva a far sempre nuove domande. E sia che le persone a cui si accostava rispondessero che non sapevano neppure loro che cosa stesse succedendo, sia che ridessero e scherzassero anche sulla propria curiosità, man mano che procedeva, egli udiva tutti concludere, sempre più concordi, sempre più seriamente, e qualcosa doveva una buona volta accadere, quantunque nessuno fosse disposto a spiegargli che cosa. Andando avanti, osserva con sempre maggior frequenza sulle facce dei presenti un'eccitazione che ragionevolmente traboccava, sommergendo la ragione. Sembrava che già non importasse nulla quel che avveniva nel luogo dove tutti affluivano. Bastava che fosse qualcosa di insolito per metterli tutti fuori di sé. E sebbene quell'andar fuori di sé sia da intendersi solo nel senso letterale molto attenuato di una comune leggera eccitazione, si indovinava una lontana affinità con certi stati ormai dissueti di estasi e di trasfiguramento, come una crescente, inconsapevole tendenza a non capire più negli abiti e nella pelle. E Walter, scambiando supposizioni e parlando di cose che poco gli si addicevano, si unì agli altri, che da gruppi fluttuanti e passanti indecisi sordinarono in corteo e si mossero verso il supposto teatro degli avvenimenti, che senza precise intenzioni aumentavano a vista d'occhio di numero e di potenza. Ma tutto ciò rammentava ancora una flotta di conigli che frullano intorno alla tana, pronti a cacciarvisi dentro, quando, dalle prime file che non si vedevano fino alle ultime, si propagò un'agitazione più precisa. Un gruppo di studenti o di altri giovani che aveva già fatto qualcosa e veniva dal campo di battaglia, si era scontrato lassù con la folla. Si dì un vociare che non si capì. Messaggi incompleti e ondate di muta eccitazioni corsero dalla testa alla coda del corteo e ciascuno, secondo la propria natura, e ciò che aveva capito, sentì sdegno o paura, voglia di menare le mani o scrupolo morale. Dopodiché tutti si buttarono avanti della disposizione d'animo in cui erano indotti da quei sentimenti assai comuni ma che in ognuno apparivano diversi, ma nonostante la propria posizione dominante sulla coscienza, significavano così poco da confluire tutti in una viva forza comune che agiva più sui muscoli che sul cervello. Anche Walter, che adesso era al centro del corteo, ne fu contagiato e si trovò tosto in uno stato di vacuità e di commozione, che somigliava al primo stadio dell'ubriachezza. Non si sa bene come avvenga quel mutamento che in certe circostanze trasforma degli uomini coscienti in una massa consenziente, capace di qualunque eccesso nel bene come nel male e incapace di ragionare anche quando gli uomini di cui è formata non hanno coltivato nulla nella vita quanto la misura e la ponderatezza. Probabilmente l'orgasmo di una folla che non ha sfogo per i suoi sentimenti si butta per bisogno di distensione verso ogni sbocco che si apra all'improvviso e naturalmente saranno soprattutto i più sensibili e più impressionabili i meno resistenti quale a dire gli eccessivi capaci di improvvisi violenze o di sublimi magnanimità quelli che daranno l'esempio e apriranno la strada. Essi rappresentano nella massa i punti di minor resistenza ma il grido che più che partire da loro passa attraverso di loro il sasso che si trovano in mano il sentimento a cui danno sfogo sbarazzano la strada sulla quale gli altri che hanno stimolato reciprocamente fino all'intollerabile la generale eccitazione si precipitano senza riflettere ed essi danno alle azioni di coloro che li circondano l'aspetto di un'azione di massa che tutti percepiscono metà come violenza e metà come liberazione. In questi eccitamenti che si possono osservare altrettanto bene negli spettatori di una gara di lotta o negli ascoltatori di un discorso non importa tanto analizzare come si scatenano quanto domandarsi a quali cause risalga la disposizione ad essi perché se il senso della vita fosse in ordine lo sarebbe anche la sua mancanza di senso e non dovrebbe essere accompagnato dal fenomeno dell'imbecillità. Questo Walter lo sapeva meglio di un altro e aveva in mente non poche proposte di miglioramenti che tutte ora volevano venire fuori sicché egli con un senso di nausea opponeva resistenza a quel travolgimento che tuttavia lo entusiasmava. In una schiarita della coscienza pensò a Clarisse. è bene che non sia qua si disse non resisterebbe a questa pressione ma nello stesso momento un dolore pungente interruppe quel pensiero. Aveva ricordato la nettissima impressione di folla che Clarisse le aveva dato. Pensò forse sono pazzo io stesso perché non me ne sono mai accorto. Pensò lo diventerò presto seguitando a vivere con lei. Pensò non lo credo. Pensò ma è così di certo. Pensò il suo caro viso fra le mie mani si è irrigidito in un orribile grinta. Ma non poteva più pensare chiaramente perché disperazione e sconforto azzecavano la sua coscienza. Sentiva soltanto che nonostante quel dolore era incomparabilmente più bello amare Clarisse che correre dietro alla dimostrazione e sfuggendo alle angosce si cacciò più addentro nella fila dove marciava. Per un'altra via intanto Uri era giunto al palazzo del conte Leinsdorf. Quando entrò nel portone c'erano nell'andito due sentinelle e nel cortile c'era accampato un forte picchetto di polizia. La signoria lo salutò tranquillo ed era già informato di essere il bersaglio dell'ira popolare. Devo fare una ritrattazione dichiarò. Una volta le dissi che se molta gente è favorevole a un'idea si può essere abbastanza certi che ne uscirà qualcosa di buono. Questo naturalmente ha delle eccezioni. Poco dopo Ulrich venne sul maggiordomo e portò la notizia di un tel frattempo che la folla in corteo si avvicinava al palazzo e nella sua prudenza inquietudine chiese se si dovevano sbarrare porte e finestre. la signoria scossa il capo ma che cosa le viene in mente decise con buonarietà quelli sarebbero ben contenti se noi avessimo l'aria di aver paura e poi ci sono tutte le guardie mandate dalla polizia rivolto a Ulrich disse però in tono risentito fracassino pure i vetri l'ho sempre detto che con le persone intelligenti non si conclude nulla sembrava travagliato da un profondo rancore che nascondeva sotto una calma dignitosa Ulrich stava affacciato alla finestra quando il corteo arrivò era fiancheggiato da poliziotti che cacciavano via i non partecipanti sollevati come nuvole di polvere dalla marza serrata poi là c'era un veicolo già incagliato e vi scorreva intorno l'imperiosa fiumana innerondate aperti da d'occhio urlate dalla spuma danzante delle facce chiare quando la testa del corteo avvistò il palazzo parve che un ordine rallentasse la marcia un'onda di stupore corse all'indietro i file sopraggiungenti si incunearono le une nelle altre e si ebbe un quadro che per un momento fece pensare a un muscolo che si inspessisse prima del colpo l'istante dopo quel colpo vibrò nell'aria e fu abbastanza strano perché era un grido di indignazione e si videro le bocche aperte prima di udire il suono a ripetizione le facce scattavano nel momento in cui comparivano sullo spiazzo e poiché le grida dei più lontani erano coperte da quelle dei più vicini guardando laggiù si poteva vedere per sempre ricominciare quello spettacolo muto il conte Lansdorf che per un momento si era affacciato alle spalle di Urg disse con gran sedietà le fauci del popolo quasi fosse una frase immutabile come il pane quotidiano ma che cosa gridano poi con questo fracasso io non capisco niente secondo Urg gridavano soprattutto sì ma c'è qualche altra parola Urg non gli disse che in mezzo alla cupa cantilena degli si distingueva frequentemente il grido chiaro e disteso a basso Lansdorf gli parla anche di sentire tra le acclamazioni della Germania qualche evviva Arnheim ma non era sicuro perché il vetro spesso della finestra tutiva i suoni Urg era venuto lì appena Gerda se n'era andata sentendo il bisogno di comunicare almeno al conte Lansdorf la notizia che comprometteva Arnheim al di là di ogni aspettazione ma finora nulla era uscito dalle labbra guardava nell'oscuro ondeggiamento della piazza e un ricordo del suo servizio militare lo colmò di disprezzo con una compagnia di soldati si spazzerebbe via tutta questa gente pensò gli pareva di vedere la scena come se tutte quelle ghigna minacciose fossero una sola bocca schiomante nella cui terribilità si insinuasse a un tratto il terrore gli urli si applosciavano tremoli le labbra ricadevano dubitose sui denti e di colpo la sua fantasia trasformò la nera folla bieca in un branco di polli messi in fuga dal cane questo avvenne dentro di lui come se tutto il male vi si fosse concentrato e indurito ancora una volta ma l'antica soddisfazione di osservare la ritirata dell'uomo mosso da ragioni morali davanti a quello facinoroso e insensibile era come sempre una sensazione a doppio taglio che cos'ha chiese il conte Landstorff che passeggiava in su e in giù dietro alle spalle di Urrich e da un suo strano movimento aveva avuto davvero l'impressione che questi si fosse ferito con un'arma tagliente cosa di cui non vera la minima possibilità e poiché non otteneva risposta si fermò scosse il capo e disse e infine non dobbiamo dimenticare che la generosa deliberazione con la quale sua maestà ha donato al popolo un certo diritto di interloquire nei propri affari è ancora abbastanza recente e quindi è comprensibile che non si veda dappertutto quella maturità politica che sarebbe degna della fiducia concessa da così magnanimo sovrano mi pare di averlo detto fin dalla prima seduta dopo questo discorso Ulrich rinunziò all'idea di comunicare a sua signoria o a Diotima i maneggi di Arnheim nonostante l'avversione si sentiva più affine a lui che agli altri nel ricordo di essersi precipitato anche lui su Gerda come un grosso cane su un cucciolo guaiolante si accorse ora che lo aveva torturato incessantemente ma si attenuava quando egli pensava alla bassezza che Arnheim si permetteva verso Diotima quella storia del corpo urlante le proprie esigenze che fa scena da teatro davanti a due anime inattesa e impaziente si poteva volendo scorgere anche sotto un aspetto comico e la gente lì sotto che Ulrich continuava a osservare ammaliato senza curarsi del conte Leinstorf recitava anch'essa una commedia questo punto lo affascinava non volevano certo aggredire e dilaniare nessuno benché ne avessero l'aria dimostravano seriamente indignati ma non di quella serietà che spinge incontro a fucili che sparano no egli pensò il loro è più un atto rituale una sacra rappresentazione di profondissimi sentimenti offesi un avanzo tra civile e incivile di azioni collettive che il singolo non ha bisogno di prendere troppo sul serio invidiava come sono simpatici anche adesso che fanno tutto il possibile per rendersi antipatici la protezione contro l'isolamento che una folla garantisce irradia di là sotto e che lui quassù dovesse restarne privo e che egli per un attimo percepì con tanta vivezza come se vedesse dalla strada la propria immagine sotto vetro incastonata nella faccia del palazzo gli sembrò l'espressione del proprio destino tale destino era certo sarebbe stato migliore se adesso egli fosse andato in collera o al posto del conte Leinsdorf avesse dato l'allarme al picchetto di guardia per sentirsi in altra occasione cordialmente unanime con la stessa gente poiché chi gioca a carte commerza litiga e condivide piaceri con i propri contemporanei o anche nel caso far sparare su di loro senza tralignare è un certo accomodamento con la vita la quale permette a un uomo di fare quel che gli pare senza curarsi di lui e alle stesse condizioni fa a lui quel che le pare a questo pensava Ulrich e forse è una regola un po' strana ma non meno sicura di un istinto naturale perché da essa emana evidentemente la confidenziale temperie della costumatezza umana e chi non possiede questa capacità del compromesso che è solitario pregiudicato e serio costui inquieta gli altri allo stesso modo non pericoloso ma ripugnante di un bruco in quel momento Ulrich si sentiva veramente angustiato da quella profonda avversione contro la normalità dell'uomo solitario e i suoi esperimenti mentali che l'agitato quadro di una folla sconvolta da sentimenti naturali e comuni può suscitare intanto la dimostrazione aumentava di violenza il conto Leinstorf camminava concitato avanti e indietro nel fondo della sala e ogni tanto gettava un'occhiata dalla seconda finestra si vedeva che soffriva molto benché non lo volesse mostrare i suoi occhi sporgenti erano piantati come due palle di pietra nelle pieghe molli del suo viso e qualche volta contraeva come in grave travaglio le brazza incrociate dietro la schiena improvvisamente Ulrich capì che vedendolo lì alla finestra la folla lo scambiava per il conte tutti i sguardi si appuntavano a lui e bastoni gli venivano agitati minacciosamente contro pochi passi più in là dove la strada svoltava e sembrava sparire dietro una quinta molti già si toglievano la truccatura non aveva senso seguitare a far la faccia feroce senza spettatori e in un modo che loro sembrava naturalissimo spariva immediatamente dai loro volti ogni traccia di citazione anzi non pochi ridevano e si mostravano allegri come in una scampagnata e anche Ulrich se ne accorse si mise a ridere ma quelli che stavano sotto dissero che il conte rideva e la loro collera aumentò a dismisura sicché Ulrich rise ancora di più ma poi smise di colpo preso da schifo e mentre i suoi occhi guardavano ancora alternatamente le bocche minacciose ai volti giulivi e l'anima rifiutava di trasmettere quelle impressioni avvenne in lui uno strano mutamento non posso più adattarmi a questa vita e non mi ci posso più ribellare e gli sentì ma nello stesso tempo sentiva anche dietro di sé la sala con i grandi ritratti alle pareti l'enorme scrivania impero le rigide verticali dei campanelli e dei cortinaggi e anche quello assomigliava a un piccolo teatro lui stava nel boccascena mentre fuori gli avvenimenti si svolgevano su un palcoscenico più grande e ambe due i teatri erano stranamente collegati senza riguardo a lui che stava tra loro allora l'impressione della stanza che gli sapeva alle sue spalle si contraste e si rovesciò all'infuori e così facendo passò attraverso lui o lo avvolse come qualcosa di molto morbido una strana inversione spaziale pensò Ulrich la gente passava dietro a lui attraverso la folla egli era giunto al nulla forse però gli passavano dietro e davanti sciacquandolo come le onde uguali e mutevoli del torrente sciacquano un sasso era un fatto che si capiva solo a metà e quel che più impressionò Ulrich fu la vitreità la vacuità la pace beata dello stato in cui si trovava dunque si può uscire dal proprio spazio ed entrare in un altro nascosto e gli pensò perché aveva proprio la sensazione che il caso avesse fatto valicare la soglia di una porticina segreta scosse via quei sogni con un movimento così energico di tutto il corpo che il conte Leinstorf si fermò stupito che cosa ha oggi domandò sua signoria lei se la prende troppo insisto noi dobbiamo cattivarsi tedeschi mediante i non tedeschi che la cosa ci dispiaccia o no quel discorso se non altro fece di nuovo sorridere Ulrich che guardò con rettitudine la faccia del conte impressa di solchi e colline è un momento speciale quando si atterra con l'aeroplano il terreno emerge rotondo ed usureggiante dalla piatta carta topografica a cui per ore e ore era stato ridotto e l'antico significato che le cose terrestri recuperano sembra crescere su dal suolo questa fu l'impressione di Ulrich ma nello stesso momento gli frullò per il capo inesplicabilmente la decisione di commettere un delitto o forse era soltanto un'idea informe perché non associata con nessuna immagine forse si riconoteva Amos Brugger perché gli sarebbe piaciuto aiutare quel pazzo che il destino gli aveva fatto incontrare casualmente come i due capitano a sedere sulla stessa panchina al giardino pubblico ma veramente in quel delitto gli trovava soltanto il bisogno di tagliarsi fuori o di abbandonare la vita che si conduce pacificamente in mezzo agli altri ciò che si solchiamare anarchia o misantropia quel sentimento in mille modi motivato e giustificato non si sviluppava non si manifestava in nessun modo concreto era lì semplicemente e Ulrich ricordava di averlo avuto accanto per tutta la vita ma di rado così forte si può dire che finora in tutte le rivoluzioni di questo mondo sempre l'uomo spirituale ne è andato di mezzo esse incominciano col promettere l'avvento di una nuova civiltà spazzano via come proprietà nemica tutto ciò che l'anima ha conseguito fino ad allora e sono superate dalla rivoluzione seguente prima che siano ritornate al livello di prima così le varie civiltà non sono che una lunga serie di retromarze di imprese fallite e l'idea di uscire da quella serie non era nuova per Ulrich nuovi erano soltanto i segni moltiplicantisi di una risoluzione o addirittura di un'azione che pareva già in fase di sviluppo egli non tentava neanche di dare a quell'idea un contenuto per qualche istante fu tutto preso dal presentimento che adesso non gli sarebbero di nuovo toccate vicende generali e teoriche come quelle di cui era già stanco ma che avrebbe intrapreso azioni personali e attive partecipandovi col sangue con le mani e coi piedi sapeva che nel momento di quello strano delitto che la sua coscienza non aveva ancora afferrato non avrebbe più potuto tenere testa al mondo ma diosa perché questa era una sensazione di fervida tenerezza unita allo strano ricordo spaziale del compenetrarsi degli avvenimenti in sala e in piazza di cui egli poteva ridestare ad ogni istante l'eco affievolita costituiva un rapporto col mondo oscuramente stimolante che Ulrich se avesse avuto tempo di meditarsi su avrebbe forse ricondotto alla leggendaria volutà degli eroi divorati dalle idee per le quali pugnavano ma invece fu interrotto dal conte Langsdorf che intanto aveva combattuto per la sua propria battaglia io devo restare qui per tenere testa a questa rivolta cominciò sua signoria perciò non posso muovermi ma lei caro amico deve andare subito da sua cugina prima che turbata dagli avvenimenti si lasci magari strappare da qualche giornalista un commento che non sarebbe opportuno le dica per esempio riflette ancora un momento prima di prendere una decisione sì mi pare che il meglio sia dirle così ogni rimedio forte conduce effetti forti e anche chi vuol migliorare la vita non deve aver paura in circostanze critiche di bruciare e di tagliare meditò ancora un poco con aria inquietamente risoluta e la sua barba si mosse in su e in giù mentre egli già stava per dire qualcosa ma poi ci ripensò alla fine tuttavia la sua bontà naturale ebbe il sopravvento ed egli riprese deve anche convincerla a non avere paura non bisogna mai temere gli scalmanati quanto più sono realisti tanto più si acconciano alle reali circostanze purché ne sia dato loro l'occasione non so se l'hai l'osservato ma non sei mai vista un'opposizione che non abbia smesso di fare l'opposizione appena è arrivato al potere non è semplicemente ovvio come si potrebbe credere ma è una cosa molto importante perché da lì trago un'origine se così posso esprimermi il realismo la fidatezza e la continuità nella politica